Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene, buongiorno per tutto il giorno. Meditiamo stamattina il Vangelo di Marco, capitolo 6, versetti 14 a 29. In quel tempo, il re Erode sentì parlare di Gesù, perché il suo nome era diventato famoso. Si diceva, Giovanni il Battista è risorto dai morti, e per questo ha il potere di fare prodigi. Altri invece dicevano, è Elia. Altri ancora dicevano, è un profeta come uno dei profeti. Ma Erode al sentirne parlare diceva, quel Giovanni che io ho fatto decapitare è risorto. Proprio Erode infatti aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni infatti diceva a Erode, non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello. Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio quando Erode per il suo compleanno fece un banchetto per i suoi alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla, chiedimi quello che vuoi e io te lo darò, e le giurò più volte, qualsiasi cosa mi chiederai te la darò, forse anche la metà del mio regno. Ella uscì e disse alla madre, che cosa devo chiedere? Quella rispose, la testa di Giovanni il Battista, e subito entrata di corsa dal re, fece la richiesta dicendo, voglio che tu mi dia adesso su un vassoio la testa di Giovanni il Battista. Il re, fattosi molto triste, a motivo del giuramento e dei commensali, non vuole opporle un rifiuto, e subito il re mandò una guardia e andò e ordino che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio, la diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. Parola del Signore. Ecco, Marco ci racconta l'episodio del martirio di Giovanni Battista. Potremmo sottolineare alcuni elementi per la nostra meditazione. Il primo elemento che potremmo sottolineare è proprio l'importanza di questo martirio che sarebbe come la prefigurazione del martirio di Gesù Cristo. Giovanni il Battista è morto per causa della verità, ha detto la verità, che a te, Erode, non ci conviene prendere questa moglie, la moglie del tuo fratello. Per quello motivo, ecco, dunque, Giovanni ha subito il martirio che sarà, come ho detto prima, la prefigurazione della morte anche di Cristo, che morirà giustamente per causa della verità. E tutti quanti che diventeranno discepoli, ecco, potrebbero anche arrivare a questo sacrificio suprema che è proprio la testimonianza. potremmo anche sottolineare la coerenza, diciamo, di Erode. Marco non loda questa sua coerenza, ma lo sottolinea, diciamo, la sottolinea nel senso, ecco, ci conviene proprio nel nostro rapporto con il Signore essere coerenti anche noi. Potremmo ricordarci di questo amministratore disonesto. Gesù l'aveva lodato perché ha utilizzato una tecnica per l'interesse suo, ma invece i figli della luce potrebbero utilizzare la stessa tecnica però per gli altri e non per i propri interessi, diceva Gesù. Dunque, carissimi, anche noi nel nostro rapporto con il Signore, nel nostro rapporto tra di noi tocca essere veramente coerenti. Questa coerenza darà anche una vera e forte testimonianza. potremmo anche sottolineare la gelosia di Erodeade. Per causa di questa gelosia, Giovanni Battista è stato ucciso. La gelosia è un sentimento che abbiamo, ma quando diventa una possessione, distrugge la famiglia, distrugge ogni forma di rapporto umano. Qui i cristiani possono avere la gelosia del Signore, che non possiede nulla, ma piuttosto prende cura dell'altro. Questo sì, ma non possedere la persona, diventare come un policiotto a controllare tutte le cose. Questo distrugge. Allora, carissimi, oggi Marco, presentandoci in questo martirio, ti invita a essere proprio testimoni della verità. davanti alla verità, non dobbiamo rinunciare, anche se ci potrebbe costare, ma la verità deve sempre trionfare. Chiediamo allo Spirito Santo di purificarci, di purificare la nostra gelosia, di cacciare via. Addirittura San Paolo dirà che la gelosia è un dono del diavolo, ma non entriamo in questo merito. Invochiamo allo Spirito Santo di togliere da noi questa forma di possedere le persone. infine, che lo Spirito ti dia il dono di discernimento affinché tutte le nostre decisioni vanno nel senso del bene, non nel senso del male. Per l'interesse degli altri, non per i nostri interessi. Per la nostra vita e per la gloria di Dio. Vi auguro una buona e santa giornata. Che Dio vi benedica sempre.